L'aeroporto d'Abruzzo sempre più verso un ritorno alla normalità. Da domani 1 febbraio saranno ripristinati quattro collegamenti Ryanair potenziando Bergamo-Orio-Alserio e reinserendo altre tre destinazioni. Per Torino si torna a volare tre volte a settimana, la destinazione di Lontra-Stansted verrà operata due volte a settimana, per Bruxelles-Charleroi quattro voli a settimana, infine la tratta Pescara-Milano-Bergamo torna a 12 voli settimanali. Analizzando ciò che è avvenuto l'anno scorso, quest'anno è un importante segnale perché l'anno scorso questi voli sono stati ripristinati nella mensilità di aprile e quest'anno invece partiamo già dai primi di febbraio. A marzo verrà già in vendita il collegamento sempre operato da Ryanair per Francoforte-Anne e diciamo che aprile dovremmo avere ripristinato tutto l'intero collegamento e planning che Abruzzo Airport ha già dal 2021. Novità riguardano anche i collegamenti con Linate effettuati da Ita. Il volo da Pescara verso Milano partirà alle 6.30 anziché alle 6.10, quello della sera da Linate verso l'Abruzzo partirà alle 20.30 atterrando a Pescara alle 21.40 e non più alle 23.55. Restano invariati i collegamenti pomeridiani, in partenza da Linate verso Pescara alle 15.15 e dall'Abruzzo verso la Lombardia alle 17.10. Se il buongiorno si vede dal mattino c'è un cambio di passo anche ai vertici di Ita. Noi non possiamo dimenticare che attraverso lo switch Alitalia Ita abbiamo beneficiato di un collegamento in più, tutt'ora in essere, quindi Linate è collegata due volte al giorno. Abbiamo un dialogo costante e quotidiano con questo vettore. Stiamo siglando un accordo per quanto riguarda il proseguimento di questi due collegamenti e probabilmente se rimarranno questi due collegamenti riusciremo attraverso Linate Scalo Hub collegare altre destinazioni anche con la città di Pescara. Dopo queste importanti novità lo sguardo si sposta verso l'immediato futuro, cioè l'estate. Noi ci apprestiamo la Summer 2022 con la massima espansione dei voli da e per l'Abruzzo con il maggior numero di frequenze e se la pandemia ce lo consentirà naturalmente potremo migliorare ed aumentare i numeri già importanti del 2021.